Il governo che ha firmato in Europa gli accordi fiscali che adesso dobbiamo rispettare si chiama governo Berlusconi. Fu il ministro Tremonti che a marzo dell'anno scorso in Europa firmò l'impegno dell'Italia a rientrare dal debito pubblico, firmò anche l'impegno a mettere in costituzione l'equilibrio di bilancio e dato che l'Italia è un paese in questo momento scrutato da tutto il mondo per capire se è affidabile o no, molti pensano che non sia affidabile il motivo per cui abbiamo questa turbolenza finanziaria gravissima e appunto perché tutti si domandano se siamo affidabili e se saremo in grado di ripagare i nostri debiti, è chiaro che nessuno può permettersi di sconfessare accordi firmati. Quindi il governo Monti sta esattamente perseguendo gli obiettivi firmati da Tremonti più di un anno fa, quindi firmati dal governo che Salussi sosteneva, mi pare che Salussi dovrebbe un po' fare pace con il suo cervello, compreso l'aumento dell'IVA, la clausola di salvaguardia che diceva che se non si sarebbero trovati 20 miliardi di euro dalla riforma fiscale assistenziale di Tremonti si sarebbe aumentata l'IVA di due punti, l'ha scritta Tremonti in uno dei due debiti di agosto dell'anno scorso, quindi anche qui Monti sta facendo, cercando di aggredire la spesa pubblica, di tutto per evitare l'aumento dell'IVA, ha deciso da Tremonti, di nuovo Salussi dovrebbe fare pace con il suo cervello, mi scusi. E abbiamo fatto pace con Salussi, adesso massacriamo Epifani così chiudiamo la serata allegramente. No, Epifani mi sembra più equilibrato nel giudizio perché distingue fra i tagli, fra il tentativo di far dimagrire l'apparato amministrativo della pubblica amministrazione italiana, che è un apparato in alcuni casi ridondante, in altri casi cresciuto troppo, soprattutto tramite tutte le società esterne, le famose società strumentali, anche con poca trasparenza, quindi con elementi. Questo è invece, Epifani è preoccupato per la questione sanità, e questo concordo con lui, nessuno non potrebbe essere preoccupato. Io sono forse un pochino più fiducioso perché ritengo, potrà sembrare un paradosso, vedo altri settori più a rischio che non la sanità, perché sulla sanità è stata elaborata a partire dal 2006, quindi ormai da sei anni, una batteria condivisa di indicatori di costi, di efficienza e di efficacia, che è condivisa da Stato e Regioni, quindi ritagliare un miliardo, ritagliare due miliardi, il soldi là del tatticismo politico, secondo me sarà possibile, sarà possibile farlo in modo condiviso. Mentre invece i tagli degli anni passati, sommati ai nuovi tagli di oggi, andranno a incidere su altri settori che sono meno garantiti della sanità, e questi si faranno male, penso all'assistenza, alla non autosufficienza, al trasporto pubblico locale. Io quasi quasi rispetto ai più fatti sarei più preoccupato per le conseguenze dei tagli agli enti locali e regioni nei settori diversi della sanità, questo si andrà valutato con molta attenzione e andrà evitato soprattutto che centralmente per evitare l'aumento dell'IVA si tagliano le regioni comuni e poi magari le regioni comuni aumentano l'IRPEF o l'IMU e quindi alla fine aumenti di tasse ci sono comunque. Quindi va fatto meglio quello che in gergo tecnico, mi scusi se ad opera in gergo tecnico, si chiama il coordinamento della finanza pubblica, cioè Stato, regioni e comuni non possono muoversi in modo disordinato e senza parlarsi fra loro devono muoversi in modo coordinato. Forse se si capisce bene dalle prime cose che escono di questo decreto, quello che fa un po' difetto in questo decreto è uno Stato, un governo che, ma si può anche comprendere per l'emergenza, si muove molto da solo senza essersi ben coordinato con regioni comuni. E questo è un rischio da evitare, esistono peraltro strumenti per evitare questo rischio, esiste per esempio una previsione legislativa che io spero che il governo voglia finalmente questo governo ottemperare, che è quella di costituire la commissione per il coordinamento della finanza pubblica prevista dalla legge sul federalismo fiscale, che è appunto l'organismo che in modo quotidiano, direi settimanale, deve vedere assieme il ministro dell'economia, il governo nazionale, regioni e comuni per coordinarsi fra di loro in questo lavoro di riduzione della spesa e di abbassamento della pressione fiscale che non può che essere fatto in modo coordinato. Prima della pubblicità, dato che poi parleremo appunto degli enti locali e della reazione degli enti locali, ho due curiosità, botte e risposta. La prima, ritiene che a secondare le norme del fiscal compact sarà davvero così penalizzante per i prossimi decenni, dobbiamo dire purtroppo, come qualcuno paventa o no? E con il debito pubblico così elevato che abbiamo non abbiamo molte alternative. se siamo seri... Non senza fare demagogia, però proprio con un messaggio chiaro anche alle persone, perché tutti poi pensano, qui andiamo al voto tra un anno, ma tanto chi governa, governa, le possibilità di muoversi saranno abbastanza limitate. Non c'è dubbio, con il debito pubblico così elevato non abbiamo molte alternative. E attenzione, chi dice che uscendo dall'euro sarebbe meglio, non sa cosa dice. Uscendo dall'euro sarebbe molto peggio. Innanzitutto, il nostro debito pubblico vorrebbe ancora di più. In secondo luogo, non è che possiamo uscire dall'euro ed essere chissà dove. Tutti i paesi europei che non stanno nell'euro sono legati all'euro da un accordo di cambio fisso. Quindi dovremmo comunque difendere una stabilità del cambio della moneta. Quindi non è che cambierebbe molto. Nel 1993, quando facevamo l'ultima svalutazione, gli effetti positivi di quell'ultima svalutazione durarono un anno e mezzo. Quindi non abbiamo molte strade alternative. Due, abbattere il debito pubblico con una politica di rigore, che deve essere però anche di equità. E secondo, ritrovare una strada di crescita economica, modificando alcune condizioni strutturali della nostra economia, che si sono invece modificate negativamente negativamente gli ultimi dieci anni. Dato che parla di rigore ed equità, ho visto che anche adesso, in questi giorni, è impegnato sul fronte delle feste dell'unità. Insomma, c'è sempre la necessità di parlare non soltanto con chi uno rappresenta in Parlamento, ma semplicemente con i cittadini, di confrontarsi e di far comprendere il momento. Se c'è una cosa che forse le persone non riescono a digerire, a prescindere dall'appartenenza di classe, si sarebbe detto una volta, è la strada intrapresa da questo governo, che è diretta verso un rigore, che però penalizza i consumi, non guarda con attenzione alla crescita. Sembra quasi che l'unico boccaporto aperto sia quello dell'austerity a tutti i costi. Che ne pensa? Guardi, noi purtroppo subiamo... Le sue parole pesano, perché nella sua veste, insomma... Noi subiamo un quadro europeo che non è positivo per noi, perché come abbiamo ormai tutti imparato in queste settimane, in questi mesi di crisi, la costruzione europea è una costruzione incompleta e imperfetta. E quindi, finché non viene completata e resa meno imperfetta, i paesi in deficit, come l'Italia, ma come anche la Spagna, soffrono un di più di intonazione recessiva delle politiche macroeconomiche di livello europeo. E noi dobbiamo fare di tutto, dobbiamo batterci in tutti i modi, affinché le politiche europee diventino meno recessive e affinché la costruzione delle istituzioni europee si completi, superando le imperfezioni che invece in questo momento stanno facendo così danno. Per inciso, in questa prospettiva, cioè di migliorare il funzionamento dell'Europa, strappare l'Europa a politiche migliori, direi che non... Diciamo, io non ho nessun dubbio, ma credo che nessun italiano possa avere nessun dubbio che sia molto meglio l'attuale delegazione italiana che va a trattare, cioè sia molto meglio Monti e Muavaro, di quanto non fossero qualche mese fa i precedenti che trattavano per noi. Perché i precedenti che trattavano per noi, in primo luogo l'ex Presidente del Consiglio, Berlusconi, avevano perduto molta credibilità e non avevano una capacità di trattativa. Quindi questo è un sassolino dalla scarpa politica di un esponente del Partito Democratico. Monti ha pure Hollande mentre Berlusconi va a stare così, ricordiamolo perché insomma... Diciamo che c'è un'evoluzione europea da perseguire, sicuramente la nuova politica francese darà una mano, però detto questo non ci dimentichiamo che tante questioni che abbiamo da risolvere e le dobbiamo risolvere noi e le dovremmo risolvere comunque. Non ci sono alternative a, per esempio, far funzionare meglio la nostra pubblica amministrazione. Ma per esempio, adesso per dire una cosa piccola, parlando di province, abolizione delle province, eccetera, al di là delle demagogie, ci sono molti servizi in Italia che vengono offerti sia da regioni che dalla provincia che dai comuni. Per esempio, pensiamo alla cultura. Noi abbiamo un'assessore alla cultura nella regione, un'assessore alla cultura nella provincia e un'assessore alla cultura nel comune. Un'assessore alle politiche sociali nella regione, un'assessore alla politica sociale nella provincia e un'assessore alla politica nel comune. Ma siamo sicuri che questo sia un assetto efficiente? Io ritengo che se si decide che ci sono alcune politiche che è meglio fare a livello di prossimità, come per esempio, secondo me, sono il sociale e la cultura, le facciano i comuni, punto. E quindi se le fanno i comuni non c'è più bisogno di un assessorato sociale o alla cultura alle province. Mentre invece le province potranno concentrarsi sulle cose di area vasta, le reti, le strade, le cose che è meglio fare a livello di area vasta. Ma è questo che dobbiamo cominciare a fare, direi, senza drammi, sapendo in effetti che abbiamo dieci anni in ritardo. Perché questo lavoro, se lo avessimo cominciato seriamente a fare dieci, dodici anni fa, oggi non saremmo arrivati al punto in cui siamo. Ci fermiamo qualche istante e poi torniamo a parlare proprio di enti locali. A tra poco. Abbiamo realizzato vere case da ammirare, eleganti, rifinite e di pregio. Tra via Collatina e via Prenestina. Acquistando una casa dal gruppo Edoardo Caltagirone, troverete, oltre alla qualità riconosciuta, modalità di pagamento eccezionali, mutui a condizioni irripetibili, con rate inferiore ad un canone di affitto e senza costi di intermediazione. Richiedete l'assistenza del nostro personale per informazioni e per valutare possibilità di permute ai numeri 06 22 18 14 67 o 06 22 53 294. IC dove le case sono più belle. Qualunque sia la tua casa, valorizzala con gli infissi e i serramenti del leader nazionale nel settore. E allora, che aspetti? Porta l'Ennoc nella tua casa. Quartieri sporchi, lavori infiniti. Le strade non sono sicure, gli asili nido solo per pochi. I trasporti sono inadeguati, le liste d'attesa in ospedale interminabili. Basta, lo dico a Teleroma 56. Su Twitter, a Chioccio la Teleroma 56, sulla pagina Facebook di Teleroma 56 o via mail, allo dico a Teleroma, a Chioccio la Teleroma 56.tv. Di nuovo insieme alle 23.47, manca poco la mezzanotte, ricordo anche il saluto a tutti coloro che ci seguono in replica puntuale. alle 7 di mattina è arrivata, professor Causi, anche la prima pagina del tempo, lo ricordo con noi Marco Causi, deputato del Partito Democratico, che fa riferimento sempre allo stesso argomento. Sechi, si sa, insomma, in gran parte è un sostenitore, con lui il suo quotidiano della linea intrapresa dal governo e dunque il tempo titola Monti, scontenta tutti e va bene così, taglia la spesa, Bersani si infuria. Il PDL tentenna, i sindacati verso lo sciopero, tra poco la vedremo la prima del tempo, l'Italia sulla via giusta, la Grecia chiede altri due anni per risanare borse a picco e poi c'è un'immagine che fa riferimento alla banca spagnola che ha creato tutta la preoccupazione che sappiamo, risparmiatori in crisi, banche salve. Vuole spiegare in un minuto, poi davvero ci occupiamo di enti locali, perché c'è una contraddizione in termini, tutti sono convinti, eccola lì la prima del tempo, gli istituti di credito come il settore siderurgico anni 80. In qualche maniera, la convinzione che si sta facendo strada in questa fase è che mentre prima c'era la necessità di salvare gli stati, adesso bisogna salvare le banche e molti hanno scritto che gli italiani si sono, come dire, fatti carico, loro come tanti altri cittadini europei, dei problemi delle banche spagnole, questo non viene digerito dall'opinione pubblica. Come stanno realmente questi meccanismi? Al vertice europeo della settimana scorsa è stato deciso che il cosiddetto fondo salva stati, che in realtà si chiama ESFS, potrà intervenire sia, diciamo così, per salvare le banche, e sia per acquistare titoli dei debiti pubblici dei paesi in difficoltà laddove gli spread, cioè i differenziali di tasso di interesse rispetto al Bund tedesco aumentino troppo per effetto della speculazione. Quindi un doppio ruolo nuovo del fondo salvastati sia in funzione di, diciamo, anticrisi bancaria e sia in funzione di anticrisi del debito sovrano. Questo è un fatto positivo, molto positivo, tra l'altro il governo italiano è stato uno degli attori principali di questo passo avanti. C'è una relazione molto forte fra crisi bancarie e crisi dei debiti sovrani, perché la maggior parte delle banche europee hanno comprato nel corso degli anni molti titoli pubblici nei loro paesi, quindi le banche spagnolano e molti titoli pubblici spagnoli, le banche italiane e quelle italiane. da quando gli spread sono aumentati e la speculazione che scommette sulla, diciamo, sulla dissoluzione dell'euro e dell'Europa ha fatto, diciamo, gli spread aumentati hanno ridotto il valore dei titoli comprati prima che gli spread aumentassero. Chiunque, chiunque sa, qualsiasi cittadino, qualsiasi famiglia, aveva comprato un BTP cinque anni fa sa che purtroppo, come è successo anche a me, io ho solo BTP, però si sono tutti svalutati. Se li andassi a vendere oggi, chiunque abbia comprato un BTP tre, quattro, cinque anni fa ha un tasso di interesse molto più basso di quello che c'è oggi, quel BTP vale meno. Devi aspettare la scadenza, aspetta, pazienza, fino a quando scade, e quando scade recuperi tutto perché almeno è un titolo obbligazionario e quindi non c'è il rischio come quando si investe nelle azioni di perderci. Però se oggi lo devi vendere vale meno. Se il valore si dice mark to mark, il valore di mercato oggi di quel titolo, dato che le banche così come tutte le istituzioni finanziarie fanno i bilanci al valore di mercato, oggi i bilanci delle banche, oggi, già l'anno scorso, ma ancora di più oggi, i bilanci delle banche devono registrare delle perdite, anche se sono perdite virtuali perché sono perdite che se ti tieni il titolo in pancia non sono perdite vere, però i meccanismi contabili fanno emergere che tutti quelli che avevano comprato le banche e che hanno comprato tanti di pubblici hanno delle perdite sui valori e questo li costringe a ricapitalizzare. Quindi diciamo fra crisi bancaria e crisi dei debiti pubblici si è innestata una pericolosissima un pericolosissimo legame un intreccio vero e vero in Spagna siamo di fronte a un caso un po' simile a quello americano per come era nato perché la Spagna ha avuto la Spagna forse è stato il paese europeo che ha avuto un innesto della crisi più simile a quella americana diversamente dall'Italia perché la crisi deliva da un enorme boom immobiliare una forte speculazione edilizia l'aumento dei loro immobiliari un forte indebitamento delle famiglie per comprarsi le case e poi a un certo punto una difficoltà delle famiglie a ripagare quel debito e quindi una difficoltà delle casse dell'isparmio spagnole un po' simile a quella che hanno avuto alcune banche americane quando la crisi scoppiò in America noi dobbiamo mettere in moto ogni meccanismo di diciamo così raffreddamento finanziario coinvolgendo l'intera Europa certo sì l'Italia è vero che l'Italia è il terzo contributore dell'Europa dopo Germania e Francia lo è per motivi demografici per motivi economici storicamente noi siamo il terzo contributore dell'Europa e quindi non può che essere così questo però in qualche modo ci dà titolo per proporre e in qualche modo anche qualche volta imporre all'Europa le politiche che proponiamo il messaggio che filtra quindi è chiaro cioè bisogna raffreddare la crisi in più modi anche sostenendo le banche perché non ci sono alternative ho sentito e ho letto spesso però in molti dire come è possibile che quelle banche che hanno potuto godere di una boccata d'ossigeno impressionante grazie all'intervento della Banca Centrale Europea poi non l'abbiano estesa alle imprese in difficoltà ai consumatori in difficoltà ad esempio con l'accesso al credito questo è un punto vero la BCE la Banca Centrale Europea ha fatto delle operazioni di rifinanziamento molto rilevanti molto importanti queste operazioni di rifinanziamento qui parliamo dell'Italia sono state a vantaggio soprattutto delle imprese già indebitate perché le banche hanno ristrutturato i crediti delle imprese che già avevano avuto crediti da quelle banche ma invece hanno stretto i cordoni della borsa su nuovi crediti e hanno stretto i cordoni della borsa soprattutto sulle piccole e piccolissime imprese questo non va bene bisogna continuare a insistere affinché con tutti gli strumenti politici istituzionali esistenti che sono dal comitato credito e risparmio al ruolo dei nuovi fondi di garanzia adesso uno degli interventi secondo me rilevanti del governo qualche settimana fa è stato di rifinanziare il fondo di garanzia per i crediti bancari quindi questo permette alle banche di disincagliare alcune partite più facilmente perché comunque sono garantite diciamo che e poi c'è da augurarsi questo è uno dei punti delle prossime settimane c'è da augurarsi che Draghi continui a fare i rifinanziamenti a tasso zero perché secondo me tutti si sono molto stupiti ieri quando Draghi ha abbassato il tasso di interesse di riferimento europeo e la reazione dei mercati è stata negativa ma secondo me questo dipende dal fatto che Draghi ha abbassato il tasso di interesse ma non ha detto con certezza che continuerà a rifinanziare a tasso zero la liquidità e quindi i mercati gli osservatori dicono forse la banca centrale europea è arrivata al limite non potrà fare altro invece la banca centrale europea deve assolutamente continuare a fare altro quindi a fare ulteriore rifinanziamento al sistema bancario e quindi irrorare di liquidità il sistema europeo Draghi è un po' seccato perché la politica europea sta andando molto lentamente ha ragione ma in attesa che la politica europea vada un po' più veloce e costruisca risposte comuni a questa crisi la banca centrale europea deve fare di tutto per raffreddare il nordofismo dei mercati che si raffreddare questo è un po' seccato